Lunedì 28 luglio 2008, questa è una delle feste che si fanno all'interno della Navigator of the Seas ci stiamo recando dalla Sicilia, da Messina, al Pireo in Grecia e questa è la seconda serata, guardate che roba e che paviretti e noi naturalmente ci vediamo tutti qui su ematube.com